Polvere e macerie rimangono della pizzeria di Krematorsk, i resti di una carneficina che fanno inorridire e cozzano con le dichiarazioni ufficiali di Mosca. La Russia non colpisce obiettivi civili ma militari. Però le 19.30 di martedì scorso, al ristorante, gli soldati ce n'erano pochi e a cena con le loro famiglie. Sali a 12 il numero di morti per i due razzi lanciati sulla città nell'oblast di Donetsk, a 30 km dal fronte del Dombas e atterrati tra i tavolini. Tra questi alcuni adolescenti. La foto delle sorelle gemelle di 14 anni, Iulia e Anna, stampata sulle pagine dei giornali, sarà per sempre legata a questa ennesima tragedia. 60 i feriti, c'è anche un neonato. Le armi utilizzate sono Iskander, missili ad alta precisione. Un uomo che avrebbe dato il suo aiuto per l'attacco è stato arrestato, l'ho fatto sapere il presidente Zelensky che in un messaggio sui social ha poi precisato Chiunque aiuti i terroristi russi a distruggere vite merita la massima punizione. Intanto in Russia, quelle che prima erano dicerie sull'arresto di Sergei Surovikin, predecessore di Gerasimov, in qualità di comandante in capo delle forze di Mosca in Ucraina, viene dato per certo dal Moscow Times, che cita fonti anonime della difesa. Surovikin non si vede in pubblico da sabato, giorno della rivolta organizzata dal gruppo Wagner, e sarebbe stato arrestato proprio per la sua vicinanza a Prigozhin. E mentre Putin incontra la folla nel sud della federazione, giorni dopo il fallito colpo di Stato, nell'agenda del Cremlino oggi c'è l'incontro tra il Cardinal Zuppi, missione a Mosca, e Ushakov, consigliere del presidente russo. Con la benedizione di Papa Francesco nel ricordare la festa dei Santi Pietro e Paolo, comincia la missione del Cardinale Matteo Maria Zuppi a Mosca. Grande riservatezza, avvolge questa tappa in Russia, dopo che il 5 e 6 giugno scorsi Zuppi è stato in Ucraina, dove ha incontrato Zelensky. Al momento non è in agenda un faccia a faccia con Putin, che è partito per una visita in Dagestan, ma l'arcivescovo di Bologna e presidente dei vescovi italiani sarà ricevuto dal consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, uno degli uomini più importanti nell'impermeabile piramide composta da oligarchi e fidati amici del presidente, profondo conoscitore dell'Occidente, essendo stato ambasciatore a Washington per un decennio. Al centro della visita di Zuppi, che vedrà anche il patriarca Kirill, i temi umanitari, tra cui il ritorno dei bambini ucraini deportati e lo scambio di prigionieri. Non sarà facile trovare possibili vie di dialogo tra russi e ucraini in un momento di grande debolezza di Putin, a pochi giorni dalla marcia della Wagner su Mosca. Un'insurrezione armata che solo per un soffio non è sfociata in un bagno di sangue. Secondo il Wall Street Journal, il capo della Wagner, Prigoshin, voleva catturare i leader militari russi Shoigu e Gerasimov e avrebbe avuto l'appoggio di almeno un altro generale, Surovichin, ex capo dell'operazione militare in Ucraina. Difficile capire quali battaglie si consumino dietro le alte mura del Cremlino. Di certo, le ultime immagini di Putin nell'incontro con il Consiglio di Sicurezza mostrano un leader che non riesce a nascondere qualche tremolio. La dichiarazione che rimbalza da Bruxelles, un Putin debole e più pericoloso, evoca scenari inquietanti, così come le immagini che arrivano dalla regione di Zaporizia, dove sono in corso le esercitazioni per addestrare la popolazione sul daffarsi in caso di incidente nucleare. Da Kiev i soliti proclami, guadagniamo territori a sud e nel Donetsk. Dal campo solo la conferma che sarebbero di nuovo cruenti gli scontri dentro e nei dintorni di Bakhmut. Zelensky assicura che l'Ucraina percorrerà la strada per la vittoria, anche se sarà difficile. A Kramatorsk, dopo l'attacco al centro commerciale e al ristorante, aumenta il bilancio delle vittime e fa al giro della rete la foto delle due gemelle, Anna e Giulia, 14 anni. Uno scatto in bianco e nero e quelle due sorelle sorridenti, ingoiate dalla guerra, come tanti altri e tra loro centinaia di ragazzini che sono rimasti in Ucraina. Di bambini hanno parlato il Cardinale Zuppi, inviato del Papa, e la commissaria russa per i diritti dei minori. La stessa Maria Belova che è sotto accusa al Tribunale internazionale. Dal Cremlino, lo scetticismo sulla possibilità di un negoziato, ma dal patriarca ortodosso. Un'apertura verso il Cardinale. Lavoriamo perché non si arrivi a un conflitto più allargato, ha detto. Mentre Putin parla ancora, ma le sue dichiarazioni sono solo legate alla situazione economica della Russia. Il responsabile della sicurezza al Parlamento, la Duma, invece annuncia che la brigata Wagner verrà esclusa dalle operazioni in Ucraina. Intanto nessuno sa dove sia finito il comandante ribelle, così come il generale Surovkin, che secondo il New York Times sapeva di quello che sarebbe accaduto a Rostov e che forse sarebbe stato arrestato. Un puzzle complicatissimo da ricomporre e ogni giorno che passa diventa sempre più arduo trovare una via d'uscita dal pantano del conflitto russo-ucraino. Voci, sospetti e vendette all'ombra del Cremlino a pochi giorni della fallita rivolta armata. È giallo sulla sorta del generale Sergei Surovkin, comandante dell'Aeronautica scomparso dal giorno della ribellione, che secondo molti rumors sarebbe stato arrestato. In ottimi rapporti con il capo dei ribelli Prigojin, Surovkin era stato il primo a registrare un appello per invitare l'amico a fermarsi. Una messa in scena, secondo il New York Times, che riportando fonti di intelligence rivela che il generale sarebbe stato a conoscenza del piano della Wagner, un siluro insomma contro il numero due delle operazioni in Russia, responsabile tra l'altro delle fortificazioni che stanno rendendo difficile la controffensiva di Kiev. Del suo arresto, scrive il Moscow Times, citando fonti anonime del Ministero della Difesa. Anche il blogger putiniano Vladimir Romanov scrive che Surovkin sarebbe rinchiuso nel centro di detenzione Lefortovo di Mosca. Altri siti riferiscono che il generale non è più in contatto con la sua famiglia e che le sue guardie non rispondono. Il portavoce del Cremlino, Peskov, liquida le indiscrezioni come speculazioni e pettegolezzi. Ad alimentare le paranoie tra i fedelissimi di Putin, un'altra notizia proveniente dall'intelligence occidentale rilanciata dal Wall Street Journal, il piano originario di Prigozhin, che aveva l'appoggio di diversi generali, prevedeva la cattura del ministro della difesa Shoigu e del capo di Stato Maggiore Gerasimov durante una loro visita al fronte, progetto però scoperto dai servizi segreti russi, cosa che avrebbe costretto il capo della Wagner a ripiegare sulla presa di Rostov e sulla marcia poi fallita verso Mosca. La resa dei conti nei palazzi dello Zar sembra appena iniziata. Applausi strette di mano, selfie e sorrisi come non se ne sono visti da tempo attorno alla sua cabina di comando di Mosca. Vladimir Putin lascia la capitale, raggiunge il Dagestan, incassa un bagno di folla poche ore dal presunto golpe della brigata Wagner di Eugenie Prigozhin. Il Cremlino confeziona questa efficace risposta mediatica alle tesi di chi nel mondo, mai così tanti, descrive una leadership innebolita a un passo dal collasso. Intervenendo su questo il presidente Biden scivola in una gaffa, non la prima da quando guida la Casa Bianca. Putin sta per perdere la guerra in Iraq, dice, per poi definirlo un paria, un emarginato, ma frenando su una sua possibile caduta. Lo stesso segretario di Stato Blinken è cauto. Putin pensa di poter sostenere questa guerra più a lungo dell'Occidente, questo è il principale ostacolo a qualsiasi negoziato, spiega. Della breve ribellione della Wagner si sa ancora poco di certo qual era lo scopo, chi l'ha orchestrata, oltre al leader Prigozhin, da giorni scomparso da social e tv. Dato a Minsk dallo stesso presidente Lukashenko, secondo l'Istituto degli Studi di Guerra di Washington, sarebbe addirittura tornato a Mosca per avviare nuove trattative col Cremlino. In queste ore le speranze di un negoziato per superare la crisi sono affidate al cardinale di Bologna Matteo Zuppi, inviato speciale della Santa Sede per l'iniziativa di pace. In serata terrà una celebrazione eucaristica nella cattedrale cattolica di Mosca, ma prima ci sarà l'incontro, cruciale, con il patriarca ortodosso Kirill, vertice religioso del paese, figura chiave nella visione di Putin, con lui architetto del Ruschki Mir, il mondo russo, la pace russa fondata anche sull'invasione dell'Ucraina. L'incontro con il patriarca Kirill, capo della chiesa ortodossa e streno sostenitore di Putin. Gli occhi del mondo sono puntati sulla visita del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, un colloquio fortemente voluto dalla Santa Sede, che segue di qualche giorno quello tra il cardinale di Bologna e Zelensky. Non ci sono le condizioni per risolvere la situazione attraverso politica e diplomazia, ha tagliato corto il portavoce di Putin, Peskov. La Russia continuerà la sua operazione militare in Ucraina. Il Vaticano, pur lavorando per la pace, ha anche un altro scopo, riportare a casa i bambini strappati alle loro famiglie durante i primi mesi del conflitto. Sarebbero quasi 20.000 per il sito del governo di Kiev. Per questo il presidente della CEI ha incontrato Maria Lova Belova, la commissaria per i diretti dei minori, fedelissima di Putin. Su di lei pende un ordine di arresto della Corte Penale Internazionale, che l'accusa di deportazione di bambini. Dello stesso tema Zuppi ha discusso ieri con il consigliere per la politica estera russo. Un incontro positivo, ma è ancora presto, per sapere se avrà gli esi disperati. Stasera un altro appuntamento importante è quello con la comunità cattolica nella cattedrale, dedicata alla madre di Dio, per una messa. In questo clima di apparente tranquillità nei palazzi di Mosca la questione Prigozhin tiene ancora banco. La Wagner non combatterà più in Ucraina dopo il rifiuto del capo dei miliziani di firmare un contratto con il ministero della difesa russo. Mistero fitto, invece, sulla sorte del generale Surovkin, su cui erano ventilate voci di un coinvolgimento con i mercenari. Secondo il Financial Times sarebbe in carcere, ma la figlia ha smentito l'arresto.